musica 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 e benvenuti ragazzi jeflex che vi parla ed oggi siamo in un video un po' particolare, avete presente i video dei troll ecco ne ho fatto uno in maniera diversa visto che praticamente dei video dei troll ho fatto tutto quello che si poteva fare quindi ho cambiato il metodo, ho fatto un nuovo tipo di troll vedete ovviamente alcune parti perchè la partita è durata 45 minuti ovviamente a me vi posso tenere 45 minuti quindi qualcosa devo sempre tagliarlo quindi non vedete tutti gli scleri e nulla ragazzi ovviamente ragazzo gli ho detto guarda è un troll lui alla fine se l'è preso a ridere quindi tranquilli non è stato maltrattato nessuno cioè oddio è stato trollato malamente ok e niente ragazzi mi raccomando fatemi sapere se volete altri video del genere oppure se preferite altro vi sarà comparsa la scheda in alto adesso e nulla ragazzi vi lascio al video bella mia bella smadonnina smadonno fino a domattina allora praticamente come dicevo anche prima nel party hai vinto diciamo una becos con me in party mi raccomando fammi vincere e non mi fare perdere che ci tengo ecco ecco mi raccomando tranquilla sono molto prego nel pittino sicuro? si si vabbè no non mi fare perdere per cari che non perdono a betos un sacco di tempo si si c'è uno che mi sta affresciando che mi sta affresciando mi saaa chi è? chi è stato? oh dai va già sei morto aspetta mi sta ci no ma c'è uno che cioè mi ha cosato mi ha buttato giù con l'argo che cacchio c'è cosa fai? ma se mi è colpa mia e che spiegelo e dai chi è questo? ma oh ma è un hacker per caso ma che muore non muore oh 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 non muore ma che cacchio è? no non muore ma non muore ma non muore quanti cacchio di ho dovuto dare si che muore non muore questo qua non muore oh ecco fai gg no battemolo io ok noi prendiamo tutto no che spalle dai battemolo come se non vado ma era tutto un diamante ma vado sti nabio adesso li vado ad ammazzare tutte e due li vado ad ammazzare tutte e due non me ne frega basta basta oh vado che nabio che palle fossi di porca vieni con me vieni con me che è meglio vediamo vediamo è sempre meglio è sempre meglio accanto a che sennò ti fregio vieni 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 la cosa ho mai lì il mio che sennò si vorة gi 02 ora non muoio lo stacco lo stacco madonna non muoio hanno così tanta vita che intravaggo basta basta ci stanno lasciando 2 si guarda dai buttalo giù giu 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 tattica faccio una tattica vai vai bravo ce ne siete ce ne siete sto cavo la stessa cosa ve lo farei identica anzi io bravissimi bravissimi andiamo a pusciare questi e li ammazziamo basta perchè questi camano hanno rotto tantissimo eccoli eccoli ahia no mi stanno buttando giù no 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 binabbi sono binabbi sono binabbi sono binabbi sono binabbi guarda non riesco per un'altra uccidili dai uccidili ai ai che d'avore no 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 Ma almeno uno è morto. E allora che palle. E allora che palle. Non è buio. Eri qua. No, no, i blocchi. Mori, mori. Sì, l'ho mangiato, l'ho mangiato, sono fortissimo, sono fortissimo. Adesso vado, adesso vado. Vado, 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 vado. Vado gli spaccoletto, vado gli spaccoletto. Vai, vai. Muori, 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 muori. Si incasserà, si incasserà, che bella la vita. Si, si, corri, corri, corri. L'ha protetto malissimo. Cioè non c'è nemmeno la sigla. Ah, ecco scherzavo, c'è la sigla. Oh! Sono per cadere, 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 sono per cadere. No, sono morto, sono morto, sono morto. andai madonna per ogni volta ma se con l'ergo sono sempre da là sono camperati sono sempre da camperati non riescono fuori non sono sempre da trovi in armi fuori, l'amore, l'amore, l'amore l'amore, l'amore, l'amore l'amore, l'amore, l'amore l'amore, l'amore l'amore, l'amore no vabbè basta l'amore quello ma questo qua non muore questo qua non cade ma questi qua non muoiono dai 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 no no percola non muoiono ozzi basta basta io non gioco più che cacchio c'è forse va ma che cacchio no ma come ma come come cacchio ha fatto no vabbè basta adesso basta adesso basta me ne vado me ne vado ciao me ne vado poi pure se hanno le hack peggio ancora cioè perché giocano se hanno le hack che piacere ci trovano è caduto è caduto è fuori è fuori è fuori sì dai 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 c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro e quindi ragazzi per questo video è tutto mi raccomando prendete per sorridere non cominciate a fare moralisti è presa in giro su un gioco così via che comunque se l'è presa a ridere ci siamo fatti due risate quando avevo detto che era un troll e nulla ragazzi dai se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like condividete a tutti i vostri amici fatemi sapere se vi ho stappato almeno un sorriso almeno quando gli stavo spaccando i blocchi e quelli non se ne accorgevano lì il sorriso vi è scappato lo so ti ho visto ti ho visto e ti è scappato e niente ragazzi da iFlex è tutto bella